Allora Magda, la nostra docente di trucco editoriale già da due anni. Quest'anno, ovviamente Cucchi ti sta battezzando, diciamo, è il secondo anno che lavori con noi, che sei docente alla Feria Academy e quindi dispensi tutti i tuoi consigli e la tua professionalità agli allievi della Feria Academy che sono molto fortunati ad averti. Quest'anno è un anno importante perché compi 30 anni, quindi è sicuramente un anno di bilanci ed è interessante come in età così giovane sei riuscita già a ottenere tanti, tanti traguardi. Ci spieghi un po' come è iniziato, come hai deciso di fare la truccatrice, come è iniziato questo sogno? Allora, tutto è partito da mia mamma, nasce da lì, lei aveva la mia stessa passione, me l'ha tramandata, quindi io l'ho sempre vista truccarsi, guardare le riviste di moda, sperimentare col trucco, tant'è che da bambina il mio più grande desiderio era avere i suoi rossetti finiti, quando lei me li regalava era proprio una felicità immensa. Sono arrivata a un certo punto della mia vita in cui mi sono trovata obbligata a star ferma a casa per quasi un anno e in quell'arco di tempo lì mi sono detta Magda, hai 21 anni, 20 anni, cosa fai, cosa vuoi fare della tua vita? Mi sentivo un po' come una ragazza che stava perdendo tempo. Ecco, quindi grazie anche all'aiuto dei miei genitori che mi hanno sostenuta, ho capito qual era la mia strada, che non era una strada che era così lontana, tant'è che mio padre è stato lui a scegliere la mia accademia, cioè non a scegliere, a dirmi se devi fare un'accademia deve essere un'accademia fatta bene, non devi andare lì a perdere tempo e regalare soldi per un mese di scuola, perché poi in quel periodo lì in cui ho fatto la scuola erano davvero tante le accademie che ti vendevano un corso completo in un mese. In Sardegna ancora non c'era niente. Non c'era ancora la Feli Academy, o forse era in fase embrionale, quindi stiamo parlando comunque del 2010, io ho preso questa decisione nel 2010. Dieci anni fa. Esatto, sono partita a Milano, ho fatto il mio percorso di studi bellissimo, ho imparato tante cose, ho capito che nel mondo c'era qualcun altro che aveva le mie stesse esigenze, che parlava la mia stessa lingua, quindi non mi sentivo più così tanto sola a desiderare qualcosa di diverso. E da lì è partito tutto, sono, diciamo, arrivate le mie piccole fortune. Ecco, ho preso il diploma da truccatrice, dopo un anno sono stata chiamata per le prime sfilate, e da lì ho poi iniziato a collaborare con varie riviste, con una fotografa che mi ha portato con sé sempre, ha creduto moltissimo in me, che Stefania Papparelli, lei veramente mi ha... Esatto. Sì, mi ha fatta crescere tantissimo nel mondo della moda, ecco. Esatto. Quindi da lì poi... Da lì poi so, però vuoi raccontarci anche la tua prima esperienza nelle Fashion Week con Pat McGrath, che fu anche un po' traumatica, ti ha fatto capire come funzionava. Sì, allora, io da ragazzina, perché poi tale ero, una ragazzina appena uscita dalla scuola, sono stata lanciata proprio, lanciata a fare queste sfilate con la regina del make-up, della moda, che comunque dettava, all'epoca poi era lei e basta che dettava legge. Adesso un po' sono cambiate, ci sono tante altre persone che stanno facendo strada, giustamente. Però all'epoca era lei la regina assoluta e praticamente la mia prima sfilata è stata Prada Uomo, dove io dovevo occuparmi del body make-up. Ero comunque una persona che nessuno conosceva e quelli del team non mi conoscevano, quindi un po' c'era diffidenza. La faccia da bambina? La faccia da bambina, che lei proprio mi chiamava Kid. Non ero una bambina, perché comunque avevo già 22 anni, però rispetto ad essere una bambina. Quindi diciamo che è stata un po' traumatica, ma è stata un'esperienza che posso dire che lì ho imparato alla fine tutto quello che adesso conosco. Ho imparato lì guardando i grandi, guardando quelli che facevano parte del suo team e vedendo come davvero funzionava la moda, che era il mio sogno più grande. Ti si è acceso anche il fuoco poi. E hai detto io voglio stare qui, il mio posto è questo. Assolutamente, sì, ho capito. Mi ero data quell'obiettivo, c'ero arrivata ed è stato bellissimo, perché proprio ho capito che era quello che volevo fare a tutti i costi, ad ogni costo, andando contro le persone che comunque mi dicevano ma cosa vuoi fare, non andrei mai da nessuna parte. Invece poi alla fine ho lottato. Quell'esperienza lì è stata quell'esperienza che mi ha acceso ancora di più quel fuoco. Me l'ha tenuto vivo, perché comunque era già acceso nel momento in cui ho deciso di fare l'Accademia. Però lì è stato proprio il brivido. Infatti quanto è difficile credere in un sogno da soli. Cioè spesso e volentieri, soprattutto gli artisti, si trovano di fronte a un sacco di ostacoli. Il maggior ostacolo sono le persone che ti stanno a fianco, che non credono in te. E devi farlo tu anche al loro posto. Devi farlo tu al loro posto. Quanto è difficile? Non è facile, bisogna essere molto forti, bisogna avere un fegato abbastanza tosto. Perché comunque anche persone vicine che magari non ti vogliono fare del male, magari lo dicono perché ti vogliono bene. Però comunque non sanno che loro stanno pian piano levando un mattoncino dalla tua autostima. Quindi quel mattoncino devi essere tu a rimetterlo ogni volta e magari li devi mettere a 3 a 3, a 4 a 4 per evitare che le persone ti demotivino completamente. Non è stato semplice, ho avuto dei periodi dove davvero mi sono detta ma davvero io sono in grado di affrontare questo, ma davvero io arriverò dove mi sono prefissata. Mi sono fatta tante volte questa domanda e poi alla fine comunque non ho mai mollato. Ecco, non ho mai mollato e anche alle mie allieve comunque insegnò questo, che bisogna essere bravi sì, bisogna sapersi rapportare con le persone sì, ma in primis bisogna credere tantissimo in se stessi. Perché il percorso è il loro, quindi solo loro sanno, solo noi sappiamo quello che vogliamo e quanto lo desideriamo. Quindi questo è diciamo quello che mi ha tenuta viva fino a poi arrivare adesso. E poi i risultati sono arrivati, soprattutto da 3 anni a questa parte, dopo avevi già un background di copertine, Cosmopolita Marie Claire anche con Stefania. Sì, sì, facevamo tantissimo gioia, erano delle cose bellissime, ho fatto un sacco di cover bellissime. Gioia, sì, sì, esatto, editoriali. Esatto, che poi mi hanno portata ad avere una consapevolezza del mio talento, una consapevolezza di come si lavora in questo settore che è comunque fondamentale. Finché non ci sei, proprio è tutta un'altra roba. Esatto. Dopo, diciamo, da 3 anni a questa parte comunque sono andata sempre in crescita. Ho avuto dei periodi ovviamente di down emotivo, dove magari mi dicevo aiuto, ma mi sta capitando, non mi sta capitando. Quindi un pochino, anche quando cresci tanto, magari tutto in una volta, sei anche spaventato da questo. Certo, assolutamente. Però poi dopo, diciamo, le soddisfazioni erano talmente tanto grandi che poi, cavolo, te ne rendi conto, io ci... Evidentemente era quello che dovevo fare. Era scritto. Sì, il mio mestiere mi ha sempre inseguito, devo essere sincera. Esatto, ma infatti... Nonostante abbia deciso di stare qua in Sardegna. Ma infatti è vero, il tuo destino ti viene a cercare, ma devi essere brava a riconoscerlo, perché spesso è mascherato. Esatto, è vero. In magari alcune piccole occasioni, una frase di una persona, un incontro con certe persone. Esatto. Diciamo che, secondo me, in ognuno di noi avvengono queste cose, ma non tutti purtroppo lo sanno ascoltare, sanno vedere. È vero, anche magari non cogliere magari l'occasione che poteva in quel momento sembrare l'occasione della vita. Esatto, esatto. Anche una cosa così. Esatto, sì, a me sono capitate tante di questa esperienza. Esatto, ce ne vuoi raccontare qualcuna, una conoscenza magari che ti ha cambiato la vita. Assolutamente. C'è stata una bella conoscenza. Allora, io ho avuto tante occasioni, devo essere sincera, che... Te le sei create. Sì, me le sono create, però alcune me le sono fatte scappare, diciamo. Comunque anche desiderosa di rimanere qua, di non demorre, rimanere nella mia terra, comunque lavorando, dimostrando anche agli altri che si poteva fare. Ho lasciato tante occasioni dicendo, magari non è quella giusta, magari non è quella giusta. Nel momento in cui poi, anche grazie a te, è arrivata la conoscenza giusta, adesso io mi trovo comunque a vivere una situazione lavorativa che mi dà tantissime soddisfazioni. Ho conosciuto Emanuele, molte persone... Ma io sono stato un tramite. Sì, è stato un tramite, però comunque diciamo che... Mi fa piacere, ma... Esatto, è tutto un collegamento, sono tutti dei collegamenti che comunque da te hanno portato a me, insomma, quindi comunque è vero che io ho conosciuto Emanuele tramite te. Magari le persone dicono, ah, vi conoscete da tanto, perché se te stai di entrambi, invece no, lo conosco alla fine da... Due anni. Sì, un anno e mezzo, si può dire. Quindi ho conosciuto Emanuele, ha creduto moltissimo in me. Lui si è subito innamorato, tra virgolette, di te, perché... Sì, tant'è che poi ormai siamo anche... Il rapporto non è solo lavorativo, siamo grandissimi amici, quindi ha creduto moltissimo in me, tant'è che poi da lì mi ha mandato subito a truccare Chiara al posto suo, quando lui non poteva, e poi ho iniziato a seguire Valentina Ferragni, ho iniziato a seguirla e occuparmi del suo look per, insomma, le campagne, le fashion week, quindi diciamo che sono entrata in quel settore lì, nel settore delle celebrities e delle influencer. Adesso le nuove celebrities sono le influencer. È vero. E spiegaci un po' come funziona la tua giornata a Milano, perché poi anche grazie all'intensificarsi di questi lavori ti sei trasferita a Milano. Certo, mi sono dovuta ritrasferire. Quindi è una cosa super positiva, fai avanti e indietro, torni da Milano per fare le tue lezioni, che non hai abbandonato alla tua gli academy. Non abbandonato, non abbandonato assolutamente, perché comunque mi piace moltissimo insegnare. La mia vita a Milano è questa, fortunatamente diciamo che ora come ora il lavoro mi permette anche di avere tanto tempo, cioè tanto, magari non tantissimo, però del tempo libero. Non lavoro ogni giorno, non lavoro tutti i giorni come magari si lavora in ufficio, però diciamo che facendo un esempio, magari la settimana della moda, quella è abbastanza frenetica, perché comunque devo svegliarmi la mattina presto, andare a preparare magari Valentina, poi magari ho qualcun altro, mi occupo anche di qualcun altro, quindi devo andare da una parte all'altra, sempre con la mia valigia di 20-30 kg, però poi a fine giornata arrivo distrutta, ma molto molto felice, molto soddisfatta di aver creato comunque delle cose particolari, di aver avuto l'opportunità di lavorare con persone che mi danno molto spazio creativo, che questo è fondamentale, che non è una cosa semplice, soprattutto quando si lavora con le celebrities, comunque la loro immagine, non tutte ti danno lo spazio di essere creativo. Non tutte ti pidano. No, 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 non tutte si sentono di abbandonare la loro immagine. Certo, certo. Invece con Valentina, devo essere sincera, mi è capitato proprio all'esatto posto, si è fidata totalmente di me, mi ha permesso di crearle un look diverso da quello che aveva prima, e anche di essere molto, di sfruttare la mia fantasia e la mia creatività, ecco. Infatti l'hai valorizzata tantissimo, magari lei non si era mai vista così. No, non si era mai vista così, ha avuto… Certo, ha usato dei colori particolari, pian piano diciamo che ci stiamo conoscendo ancora, ma lei si fida tantissimo di me, assolutamente. Si vede, si vede. Invece diciamo che consiglio daresti alle ragazze, alle allieve che vogliono intraprendere questa professione, che comunque dà tante opportunità e tu l'hai visto, però ci vuole anche molta determinazione. Ci vuole fegato, determinazione. Che consiglio daresti? Allora, il primo è quello che do sempre, ovvero di fidarsi molto di se stesse, perché è un consiglio che mi sento di dare sempre, anche a tutte le mie allieve, perché comunque alla fine mi rapporto sempre con loro, è quello di fidarsi di se stesse, perché già nel momento in cui decidono di intraprendere questa carriera, in qualcosa c'è. Quindi andare a fondo a scavare in se stesse e tenere acceso quel fuoco, che comunque è la cosa che ti fa poi andare avanti. Non avere paura delle novità, perché comunque è un mestiere che ti porta sempre tante novità, conoscere persone nuove, non è un mestiere statico, quindi è una cosa che magari può spaventare, può essere tanto bello, può spaventare, diciamo non avere paura di niente, dei giudizi delle persone, non avere paura, fidarsi di se stesse e comunque non avendersi alla prima sconfitta, perché ce ne saranno sempre tante. Certo, ma... Quindi questo è il consiglio più prezioso che io possa dare sicuramente, perché è quello che a me ha portato dove sono adesso, perché la bravura ce l'hanno in tanti, però la determinazione no. No, esatto, hai ragione. Quindi questo è... Anche l'empatia. Sì, l'empatia, imparare anche a rapportarsi, relazionarsi con le persone in maniera giusta, che può essere a volte un po' più delicato, a volte un po' più esuberante, bisogna anche capire le persone, noi siamo anche sempre un po' psicologi, quindi dobbiamo capirle e capire come rapportarci a loro e soprattutto essere davvero determinate, quello è il punto secondo me... La motivazione. Sì, chiave, non demordere assolutamente mai, quello è il consiglio che mi sento di dare. Bene, grazie Magda, grazie mille. Ci vediamo, ci vediamo il 29, la mia masterclass, sposa, Mediterranea. La prima di una lunga serie. Esatto, la mia prima masterclass è la Feri, e niente, sono molto contenta di questo percorso e di essere una vostra insegnante. Grazie Magda, grazie tante. Grazie a tutti. What do you feel beside?